Buongiorno, il mio nome è Davide Avallone, sono l'export manager di Cressi Sub, e l'arrivo a te in nostra compagnia per avere un viaggio in cui puoi vedere la produzione. Cressi è il leader oggi nella produzione di equipaggi di scuba, di spettacolo e di spettacolo. Tutto il nostro equipaggio è fatto in Italia e la tradizione storica della famiglia Cressi Sub va avanti anche oggi con Antonio Cressi e suo figlio Marco Cressi. Siamo arrivati al settore e vi mostrerò la produzione. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.